Incontriamo il giornalista americano Wolf Blitzer in Urbino, in uno dei tanti vicoli della città dopo una visita alla sinagoga Urbinate. Alla vigilia dell'Urbino Press Award il giornalista è qui e naturalmente è comunque immerso nel mondo e nell'informazione come sempre. Partiamo allora con delle domande che riguardano la politica e il mondo estero di cui Wolf Blitzer è un grande esperto. Vorrei partire con la situazione della Siria e chiedergli se ci può essere una risoluzione secondo lui immediata per i problemi di questo paese. È terribile, il mio cuore è molto toccato quando penso alla popolazione siriana, a questi rifugiati. La situazione è molto complicata, ci sono una serie di forze esterne che sono arrivate in Siria per dare supporto al governo siriano, quindi ad Assad e quindi un supporto che arriva dall'Iran, un supporto che arriva da Hezbollah e altri ancora. E poi c'è una coalizione invece che sta combattendo questo tipo di forza che dà supporto al governo siriano. La situazione è complicatissima, le evoluzioni sono difficili da intravedere ma non piacevoli sicuramente in questo momento, quello che si può prevedere. Volevo chiedere perché per l'Italia è un momento davvero delicato con la Siria e con la morte di un giovane italiano. Che cosa pensa dei cosiddetti combattenti volanti, i foreign fighter, quelli che vengono reclutati dall'Europa e poi tornano ai nostri paesi con intenti pericolosi. Ci sono molti combattenti che arrivano dall'esterno, sono tanti, arrivano da tante nazioni, non solo dall'Europa, ma anche dagli Stati Uniti. Per combattere contro il regime di Assad. La cosa è molto complicata. Questo spiega anche il motivo perché il Presidente Obama è in una situazione delicatissima per decidere che cosa fare e capire chi sta dalla parte giusta. Passando ora alla questione dell'Iran, quali secondo lui invece le nuove prospettive anche alla luce della recente elezione del nuovo Presidente? Non sono molto ottimista. Devo dire che è positivo. Se ci fosse un'apertura, ci sono delle speranze. La situazione in Iran è particolarmente seria, ci sono state tensioni molto lunghe, come sapete. Se il nuovo Presidente, anche da parte dei leader religiosi, otterrà sufficiente potere per dare il via a un percorso di trasparenza, anche legato al programma nucleare, tutta una serie di politiche, bisogna cogliere queste opportunità e capire se ci sono queste opportunità di dialogo. Per l'Afghanistan invece, visto anche la notizia dei quattro soldati statunitensi uccisi, anche qui c'è possibilità di un vero accordo con i talibani da parte del governo afghano agli Stati Uniti o no? Sono solo promesse. Spero di sbagliarmi, ma non sono per nulla ottimista sull'Afghanistan, sono molto preoccupato sull'Afghanistan. Spero che dopo tanti anni di combattimento di soldati americani e soldati Nato presenti in zona, con tante vite che sono state perse, tutto questo non sia del tutto vano. perché non sappiamo che cosa accadrà nel momento in cui tutte queste forze dall'esterno andranno via. Potrebbe accadere quello che sta accadendo in Iraq, dove la situazione è terribile, ci sono grandi conflitti, c'è terrorismo, ci sono sconti tutti i giorni. Non ne sentiamo parlare particolarmente dell'Iraq, ma questa è la situazione in Iraq, cioè un vero disastro. Quindi l'Afghanistan, spero vivamente di sbagliarmi, in questo momento è fonte di grandissime preoccupazioni, non si vedono che le prospettive. Come fa il giornalismo a raccontare situazioni così complesse allora? È il mio lavoro, lo amo tanto, perché implica studiare e imparare tutti i giorni. perché il mio lavoro con la CNN è un lavoro che copre tutto il mondo e tutto il mondo sta guardando. Quindi se tu fai un errore, subito te lo fanno sapere, via Twitter, via i social media, immediatamente hai una reazione. Quindi non è sufficiente sapere un po' di tutto quello che accade, devi sapere moltissimo su tutto quello che accade, perché ciascuno nella propria regione sa tantissimo di quello che sta avvenendo. Quindi se tu sbagli, immediatamente viene messo in evidenza e tutti lo sanno e loro sono i primi a sapere di aver sbagliato. Tra i social media, Twitter, Internet in generale, chi vince nel giornalismo? Chi è che riesce ad arrivare per primo e a dare il meglio? Su questo sono molto ottimista, nel senso che ho un'esperienza pregressa. Quando pensi al passato, quando c'erano solo i giornali, poi è arrivata la radio, la radio era un nuovo mezzo, si ascoltava, era veloce, arrivavano in tutte le case, uno diceva che avrebbe ucciso il giornale tradizionale. Invece così non è accaduto. Tutto questo nuovo sistema, quindi tutti i social media, Internet, la TV, i mezzi tradizionali, sono un qualche cosa che danno grandissima ricchezza per l'informazione e per la gente. Sta poi alla gente capire chi è affidabile, chi sta facendo un lavoro serio o quali sono le notizie che sono assolutamente da buttare via da cestinare. Cosa si aspetta dalla giornata di domani la consegna dell'Urbino Press Award? Sono contentissimo di quello che accadrà domani. Incontrerò nuovi amici qui a Urbino. Abbiamo passato solo poche ore ancora in città, ma ho visto, da quello che già abbiamo potuto vedere, è una realtà meravigliosa. Siamo molto grati a tutti coloro che ci hanno invitato qui, a chi mi ha scelto per questo premio. Quindi ringraziamo tutti, mi piace l'Italia, non ho mai venuto a Urbino, questa è la prima volta, un luogo meraviglioso. Grazie. Grazie.